Confesercenti elabora il bestiario fiscale mentre la regione promette di star vicina alle imprese favorendo la ripresa della produzione di reddito. È quanto dichiarato dall'assessore regionale Stefano Cioffo, assessore appunto della giunta Rossi Bis. La priorità per i prossimi mesi, la prima cosa che intende mettere in atto? Dobbiamo affiancare le attività di imprese. La delega che Rossi ha costruito unificando attività economiche, commercio e turismo in un unico centro di responsabilità sono frutto di un ragionamento che va portato a sintesi. La priorità è far comprendere che la Toscana felice esiste se c'è una produzione di reddito e sia che si tratti di turismo, che si tratti di attività artigianale o di grande impresa noi dobbiamo con le istituzioni rendere le nostre attività economiche più competitive delle altre.